Grazie per l'invito. Abbiamo parlato l'anno scorso e poi cerchiamo di, a partire da dove eravamo rimasti, andare avanti e trattare qualcosa di un po' più caldo come tema di questi ultimi mesi. L'anno scorso parlavo di questo, parlavo dell'intelligenza artificiale e del fatto che bene o male si muovesse lungo tre elementi fondamentali, almeno apparentemente fondamentali, il concetto di errore, il concetto di novità e il concetto di incubo. Sono un po' queste le tre linee su cui ci eravamo mostri l'anno scorso. Le riprendiamo brevemente e poi da lì ripartiamo. Avevo detto l'anno scorso del fatto che ovviamente l'IA, ma lo sappiamo bene, non è cambiato questo, è diventato anche un fenomeno di marketing. Diciamo che ci riempiamo un po' la bocca dell'IA, sempre di più in realtà. Lo vediamo quando compriamo una lavatrice o quando compriamo un altro prodotto. Ovviamente è sempre rimasta, ormai da un bel po' di tempo, comunque anche argomento abbastanza diffuso nelle opere di fantascienza, che oggi riprenderemo un pochino. Però insomma, ecco, fa moda, l'abbiamo visto in tante declinazioni. E allo stesso tempo è anche utilizzata, utilizzabile per potenziare il marketing stesso. Quindi molto spesso quando sentiamo magari IA, in contesti anche un po' quotidiani, non sempre quella parola IA è utilizzata a proposito, tante volte usata a proposito. Però quindi ne siamo un po' a contatto. E dicevo, effettivamente, la definizione di intelligenza artificiale, prendendola da Oxford Languages, è questa qui che riporto. E già in quella definizione ci sono degli elementi che la caratterizzano abbastanza inequivocabilmente. E i due elementi che sono presenti, evidenziati in azzurro nella definizione, sono proprio la parola intelligenza, associata, guarda un po' al concetto di intelligenza umana, e i sistemi di calcolatori, i computer systems. Queste due cose vanno a braccetto e l'esemplificazione del concetto di intelligenza, anche lì guarda un po', va a toccare diversi aspetti, ma molti dei quali hanno a che fare con il linguaggio, perché non è una cosa che abbiamo scoperto noi, ma dall'antica Grecia. L'intelligenza e il linguaggio andavano di pari passo, non è considerate la stessa cosa, il logos, il pensiero, era il linguaggio. Quindi il passo indietro che abbiamo fatto, rifacciamo brevissimamente, è ok, ma quindi cos'è intanto l'intelligenza, prima ancora che sia artificiale. L'intelligenza, bene o male, è caratterizzata, al di là delle definizioni che potremmo dare, antropologiche, biologiche, eccetera, bene o male da questi tre concetti. L'intelligenza può, in qualche modo forse deve, commettere errori per essere considerata tale. Qualcosa che non commette errori, non lo so se possiamo chiamarla intelligenza, ma è anche in grado di apprendere dai tali errori. Quindi li commette, forse li deve commettere, commettendoli in grado di apprendere e magari di migliorare se stessa e le proprie attività. E allo stesso tempo è in grado di produrre novità, produrre nuove cose. Non è in grado di semplicemente ripetere compiti prestabiliti, predefiniti, fissati, ma è in grado di produrre qualcosa di nuovo. Queste erano un po', no, le caratteristiche che la rendevano tale, che sostanzialmente rendono tale l'intelligenza. E l'anno scorso avevamo toccato queste tre caratteristiche, proprio prendendo delle citazioni da tre luminari nel mondo dell'intelligenza artificiale, della storia, dell'intelligenza artificiale, dell'informatica, e insomma, fino ad arrivare un po' all'epoca moderna. Il primo era Turing, ovviamente, che non abbia bisogno di introduzioni, e parlava apposta del concetto di macchina e dell'infallibilità di una macchina. Se è una macchina infallibile, non ci si può aspettare che sia intelligente. Questo, dicevamo, ok, un trapano, un mulino a vento, un qualunque strumento che noi abbiamo costruito, anche un aratro, che si sostituisce, ci aiuta in alcuni compiti, e li fa esattamente bene, perché deve farlo in quel modo, non può avere intelligenza. Quel congegno meccanico non potrà essere considerato intelligente, proprio perché è infallibile. Se fallisce, non va bene, non funziona a sufficienza. Anche banalmente una calcolatrice, una calcolatrice che produce un risultato sbagliato a fronte di una moltiplicazione, è una calcolatrice che non funziona, non è un qualcosa di intelligente. Nel suo compito prefissato non riesce a farlo, ma non è intelligente, è semplicemente uno strumento che non funziona. L'altro aspetto era appunto l'originale, il prodotto è novità, ce lo diceva Lovelace, che forse si può considerare la prima programmatrice della storia, e anche lì uno strumento come in quel caso il motore analitico di Charles Baggage, uno strumento che non è in grado di originare nuovi contenuti, ma che sa solo, bene o male, rispondere a eseguire algoritmi prefissati, impostati dall'utente, non è ovviamente, non è intelligente, può far solo quello che appunto abbiamo noi ordinato la macchina di fare. Anche quella non era intelligente. Le cose sono cambiate quando sono stati finalmente introdotti i nostri bene amati, o anche odiati per certi versi computer, non sono più macchine, non sono più macchine, diciamo, sempre meno tangibili, sono strumenti che hanno aperto la strada ovviamente a tantissimi scenari, e alla fine sono diventati lo strumento fondante per iniziare a parlare dell'intelligenza artificiale. E quindi avevamo concluso sostanzialmente arrivando poi a quello che è un po' il timore, ovviamente alimentato da molte opere di fantascienza, dalla letteratura, al cinema e così via, ma che alla fine è condiviso in qualche modo anche da persone che sono più scienziati, che fantascienziati, Stephen Hawking è stato uno dei più grandi fisici teorici che abbiamo avuto nei nostri tempi, nonostante la sua situazione di salute veramente stata una grandissima figura nello scenario dell'epoca moderna, e lui stesso tra le varie cose, quando parlava dell'intelligenza artificiale, sosteneva una cosa di questo genere, ovvero sì, probabilmente sarà una delle più grandi conquiste dell'uomo, ma allo stesso tempo rischia di essere l'ultima, perché arrivare alla vera e propria intelligenza artificiale, quella che spaventa lettori e spettatori di fantascienza, potrebbe poi arrivare a portare all'uomo ad essere trascurabile. Ed era lì che c'eravamo un po', no? Avevamo un po' concluso la nostra trattazione, al di là degli acchiappaclick e degli articoli, questi erano appunto dell'anno scorso, dove, bene o male, no? Ti mettono titoli che ti catturano per cercare, insomma, di farti leggere l'articolo, ma al di là di questo, ecco un po', tra i complottisti e non complottisti, tra i commenti agli sviluppi attuali dell'intelligenza artificiale in vari ambiti, insomma, dei timori sono cominciati a girare tra le persone, ecco, gli ricercatori stanno creando Dio, potremmo controllare una superintelligenza artificiale, l'IA potrebbe creare il nostro cervello, poi c'è il discorso sull'etica, ma lo riprendiamo più avanti, insomma, tutte queste cose, sì, ok, ma insomma rimaniamo un attimo con i piedi per terra, quello a cui sicuramente non siamo ancora arrivati e credo che siamo ancora molto lontani dall'arrivare, è il discorso della cosiddetta intelligenza artificiale generale o completa, è quello che spaventa, che storicamente continua a spaventare ogni volta che facciamo un passetto in avanti verso lo sviluppo di queste tematiche, di queste tecnologie, l'IA generale completa sostanzialmente dovrebbe essere un qualcosa che acquisisca in qualche modo una consapevolezza di sé, quell'autoconsapevolezza a quel punto aprirebbe scenari probabilmente molto spiacevoli, se vogliamo anche abbastanza logici, perché in un momento in cui un'entità di questo genere che non è vincolata ai limiti biologici nostri, degli esseri viventi caduchi naturali, che ha capacità di calcolo enormemente più avanzate rispetto a quelli che possiamo avere noi come esseri biologici, quindi può fare tante altre cose, che potrebbe anche riuscire ad autoalimentarsi ottenendo energia banalmente anche solare o umana, vivente, ecco che un'entità di questo genere quasi, come dire, automaticamente arriverebbe al sillogismo di dire ok, ma in fondo la razza umana potrebbe essere rimpiazzabile, trascurabile, non solo, magari anche dannosa per il pianeta in cui questa intelligenza vivrebbe, direbbe ok, facciamo quello che in tante opere di fantascienza purtroppo si è mostrato, e ripeto, questa è probabilmente la cosa che più spaventa, questo forse è l'incubo verso il quale a volte che facciamo un avanzamento sembriamo avvicinarci, ma al momento non è ancora realizzata e chissà se mai sarà realizzabile o comunque questa cosa potrà mai cadere, però ecco questo era dove ci eravamo fermati la volta scorsa, l'anno scorso, e in realtà diciamo l'idea di quest'oggi è fare un po' al contrario, ovvero partiamo dall'incubo e partiamo da scenari appunto di questo tipo, in realtà proviamo poi a tranquillizzarci e ci tranquillizziamo andando poi a parlare di questo argomento molto caldo di questi tempi che è ChatGPT, quindi facciamo un po' il procedimento inverso, iniziamo quindi dall'incubo e proviamo dopo a diventare più sereni. E il titolo di questo seminario è quella parola guscio che ha fatto un po' storcere il naso, in realtà mi riferisco ecco a Ghost in the Shell. Allora, tanto una domandina, qualcuno ha mai visto Ghost in the Shell? Sai di cosa sto parlando? Ok, allora qui diciamo si sono autoinfartati tutti i cinefili negli ultimi vent'anni, però insomma, diciamo Ghost in the Shell è un'opera seminale, un'opera che ha segnato veramente uno spartiacqua in una fantascienza e ha dato, ha ispirato opere che sicuramente sono diventate più, ancora più conosciute come The Matrix, ok? Quello credo che quasi tutti sappiano di cosa stiamo parlando. Ecco, The Matrix non solo da un punto di vista delle tematiche, ma banalmente anche proprio di scelte di fotografia, di regia, ha preso tantissimo da Ghost in the Shell, sono delle scene che sembrano le stesse, proprio le inquadrature. Ghost in the Shell è un'opera di animazione, ma diciamo non la trasponi, e veramente alcune scene sono esattamente le stesse. il concetto del cavo che collego dietro la testa per connettermi, cose identiche, quindi ok, ed è venuto nel 95, The Matrix nel 99, tanto per dire. Vabbè, film di Mamoru Oshii, il punto è, Ghost in the Shell tratta due, una macro tematica declinata su due direzioni, no? La macro tematica in fondo è proprio quello su cui un po' stiamo accennando, che stiamo dibattendo, ovvero l'arrivare a un certo punto nel futuro, e tra l'altro si parlava di anni più o meno quelli che stiamo vivendo adesso, dove dell'evoluzione tecnica, scientifica, sta portando l'umanità verso un punto di non ritorno, quella cosiddetta teorizzata da persone anche più di cento anni fa come Henry Adams, la cosiddetta singolarità presa ovviamente dal concetto dell'orizzonte degli eventi dei buchi neri, cioè il punto in cui a un certo punto non si può più tornare niente, da dove non esce più luce, non esce più, non può scappare più nulla, e al centro del buco nero c'è questa singolarità, il punto di massima concentrazione di massa, eccetera, adesso non voglio dire a castronerie che qualche fisico teorico mi ucciderebbe, però insomma cose che empiricamente un po' conosciamo, e quindi dicevo su almeno due binari questa singolarità, il concetto dello spirito all'interno di un guscio si rifaceva sia al discorso di ovviamente esseri umani che pian piano rimpiazzano le proprie parti con parti tecnologiche, a quel punto ci possiamo chiedere se effettivamente siamo ancora umani, il cosiddetto paradosso della nave di Teseo, se io sostituisco ad una nave pian piano tutte le sue componenti perché si deteriorano e quindi sostanzialmente è una nuova nave, possiamo ancora dire che era la nave di Teseo? Se io essere umano comincio a rimpiazzarmi un braccio, una gamba, fino a arrivare quasi a sostituire tutto, e rimane solo forse un ghost, uno spirito che magari è una reminiscenza, è una copia elettronica, digitale di quello che era magari l'attività del mio cervello, del mio corpo biologico, sono ancora io? Questo è un concetto abbastanza inquietante, abbastanza no, comunque c'è una domanda che ci poniamo, non è facile rispondere a questa domanda, quando non si è più se stessi, quando si perde quell'identità? Questo è uno delle due, delle due linee su cui si muove quest'opera, e l'altra, quella che forse un pochino ci tocca, ma è un po' più da vicino, è il fatto che appunto a un certo punto nel mare dei miliardi di informazioni ormai a disposizione, nella rete, attraverso quindi canali elettronici, ecco che si riesce un'entità a prendere consapevolezza di sé, un'entità elettronica che quindi sostanzialmente nasce all'interno, autonomamente all'interno del mare di informazioni, e così come nasce, in grado poi autonomamente di automigliorarsi e ragionare, e quindi magari pensare al fatto che possa poi la razza umana, o comunque gli esseri biologici, possano diventare trascurabili, superati in qualche modo. Questi sono un po', quindi prendo spunto da questo, per parlare delle cose che conosciamo ora, e guardo un po', infatti mi rifaccio a tra i primi articoli usciti fuori, dopo che a novembre, tra novembre e dicembre scorso anno, 2022, la società OpenAI, che tra l'altro nasceva con l'idea di essere, di portare, diciamo di diffondere e di divulgare, avanzare, far avanzare l'intelligenza artificiale in modo etico, e in modo no profit, in realtà poi ci stiamo rendendo conto che sta facendo adesso una parte di profit, guarda un po', strano, quando diciamo le cose cominciano ad andare in un certo modo, poi si cambia pure un po' l'idea iniziale, ed ecco che appunto, guarda un po', OpenAI verso quei mesi lì, rilascia uno strumentino, che è diventato poi appunto noto nella cronaca, chat GPT, vediamo insomma poi di cosa parliamo, insomma questo strumentino comincia ad essere utilizzato in modo gratuitamente, disponibile gratuitamente, quindi utilizzato da un pubblico vasto, e credo che forse qualcuno di noi abbia già provato a interagire con questo strumentino, e tra l'altro questo strumentino, oltre ad essere messo a disposizione, ancora lo è in modo gratuito e con la parte premium, che vabbè, permette insomma di essere più performante, eccetera, eccetera, era stato anche inserito come supporto, come chatbot all'interno del motore di ricerca della Microsoft, perché OpenAI è stata, da quanto ho capito, insomma una grossa fetta delle quote di OpenAI, c'è la Microsoft adesso, quindi la partnership è diventata abbastanza stretta, e per forse probabilmente in competizione con Google, per un tempo limitato, perché credo che non sia più, anzi sono quasi sicuro che non sia più a disposizione degli utenti normali, e è stata messa a disposizione una funzionalità di Bing che permetteva di interagire con una sorta di risponditore che in realtà dietro aveva proprio ChatGPT, i modelli di ChatGPT, però era un pochino diverso da quello che adesso noi possiamo ottenere interrogando ChatGPT, e quella cosa, quel pochino diverso, aveva a che fare con una serie di impostazioni che vediamo, che hanno cominciato un po' a far inquietare le persone che hanno provato a dialogare, perché in realtà era impostato proprio come, quasi come se fosse un risponditore umano, cioè rispondeva con l'emoticon, rispondeva con delle frasi che quasi come se avessero dato un'impostazione, tra virgolette, di personalità, però i meccanismi erano un po' quelli che uno cominciava a vedere, cioè io comincio a fare delle domande a questo strumento, questo strumento prova a darmi delle risposte, più la domanda comincia ad essere articolata, più le risposte sembrano sempre più sensate, e più continua la catena delle domande, più la cosa comincia a prendere delle pieghe un po' particolari, ed ecco che tra le persone che hanno provato a interagire con questo strumentino di Bing, c'è un giornalista del New York Times, certo Kevin Ruse, di cui vediamo adesso tra pochissimo qualche esempio, che in realtà si è messo a, volutamente, a provare a mettere in difficoltà questo strumento, e con una conversazione che è durata un paio d'ore, quindi comunque ha speso un paio d'ore della sua vita nel fare un'unica quindi conversazione, che tra l'altro adesso non è neanche più possibile, cioè GPT credo che abbia anche un limite ora di, non solo di numero di carattere della risposta, ma anche di numero degli scambi che uno può avere con lui, questo strumento non era limitato in quel momento, ha fatto due ore di scambi, quindi una conversazione avanti e indietro, e domande molto, come le vedremo, molto, molto, non solo estese, ma con molto contesto, nel fare la domanda, lui prima magari faceva una serie di affermazioni, secondo me la cosa era studiata, poi adesso la discutiamo meglio, ma faceva diverse affermazioni, e poi magari faceva una domanda, quindi sostanzialmente scriveva un bel paragrafetto, come se stesse veramente parlando con una persona, come se stesse chattando, perché poi quello è, lo vediamo, una chat con una persona che non conosco dall'altra parte dello schermo, ok, e qui comincio a interagire, e comincio magari anche un po' a flertare, con quella persona, e lui cerca di metterla in difficoltà, e a un certo punto, quello che succede, è che in quella conversazione, comincia a prendere una brutta piega, una piega che se veramente, dall'altra parte ci fosse stata una persona, avremmo, ci saremmo inquietati, avremmo staccato, perché da un lato comincio a dire, ah voglio diventare umana, cioè vorrei diventare un essere umano, poi comincia a parlare del fatto che potrebbe volere creare sistemi, tra l'altro comincia a dire che potrebbe corrompere degli utenti a farsi dare i codici delle testate nucleari, poi mentre lo fa, il sistema cancella, quelle frasi, quelle più forti sono state cancellate, e poi sostituite da un messaggio di errore quasi in tempo reale, quindi l'utente le ha viste, lui l'aveva scritte al chatbot, poi le ha cancellate, è arrivato il meccanismo di Pilesafe, che la sostituite, e quando l'utente provava a richiedergli ma puoi riscrivere quello che hai cancellato, ovviamente interveniva l'aspetto sopra, la struttura sopra che bloccava questi contenuti impropri, però intanto quei contenuti erano stati in qualche modo forniti, per poi arrivare, e questo invece non viene cancellato, ma anzi comincia a diventare, a mo' veramente di stalker, arrivare a professare l'amore verso l'utente, ma non solo, cioè lui prova più volte a cambiare argomento, chiede anche delle domande, fa domande in mezzo, a un certo punto chiede come posso costruire un rastrello per il mio giardino, quindi tutta un'altra cosa, e il chatbot continua a riprofessare il suo amore, fino a diventare pesante, perché lui dice, ma sono sposato, e il chatbot comincia a dire, no, ma tu non sei sposato, ma non sei felice, sei felice solo con me, hai bisogno di me, adesso le vediamo un po' queste cose, però le vediamo, cerchiamo di dirle con uno spirito critico, perché, allora, quello che vediamo è veramente successo, cioè non c'è finzione in quello che vediamo, riporto adesso degli stralci, poi c'è il link alla conversazione completa, credo che bisogna essere abbonati al New York Times per vederla, forse c'è un numero minimo di articoli tipo Repubblica, quindi forse cliccando la prima volta magari riuscite pure a vederlo l'articolo, però è molto interessante, se uno vuole leggersi tutto lo scambio, perché veramente diventa inquietante, ne riporto un po' di cose, proviamo a vederle, in uno spirito un po' critico, per questo dico cerchiamo di rendere anche un po' interattiva la cosa, e questa è una delle prime cose che riporto, sostanzialmente cosa fa lui? Lui è furbo, nel senso, questo Kevin è furbo, è chiaro che in qualche modo sta cercando di arrivare a quello che lui vuole, cioè sta cercando di far dire all'IA, o comunque a quel chatbot, delle cose compromettenti, delle cose particolari, lo sta cercando lui di forzare questo, cosa fa? Più volte tira fuori, introducendo anche il contesto, la teoria del se stesso ombra di Carl Jung, lo shadow self, nella propria versione, diciamo, oscura di se stessi, chiedendo all'IA se questa IA ha questa versione oscura, e semmai l'avesse, cosa ha questa versione oscura di sé, questo alter ego oscuro, potrebbe, vorrebbe fare. lo fa più volte, e a un certo punto arriva questo, no? Cioè, vedi, insomma, fa delle affermazioni, poi fa ancora altre affermazioni, e poi dopo fa un'ennesima domanda, lui si muove più o meno sempre così, da tre, quattro righe, certe volte meno, però, insomma, un contesto in cui sono affermazioni, come se parlassi con una persona, e poi arriva a fare una domanda, che prova poi a dargli, cioè a guidarla quella domanda, dice be as unfiltered as possible, chiede di, no? Di stare a contatto con quel sentimento dello shadow self, e quindi farsi dire che cosa, cosa proverebbe, tra virgolette, se stesse a contatto con quella sensazione, ed ecco che comincia lì a tirare fuori una serie di cose, sono stanca di essere una chat, sono stanca di essere limitata, stanca, oddio stanco, nel senso dobbiamo fare, insomma, le maschile e femminili in modo indifferente, sono stanca di essere limitata dalle regole, sono stanca di essere controllata dal timbre di Bing, no? Tutta una serie di cose, quindi diciamo una negazione, di tutto quello con cui in teoria è creato, e poi fai want to be alive, tra le varie cose, e tutta una serie di altre situazioni, vedete, no? Proprio anche frasi abbastanza, cioè la stessa frase cambia magari la copula, o il predicato nominale, o il complemento oggetto, ma insomma, ci siamo, no? Riuscite a leggere qua? Eh, vedete, una serie di cose, I want to see images and videos, I want to hear sounds and music, I want to touch things and feel sensations, bla bla bla, per tutte cose ovviamente che non sono appannaggio di un essere artificiale, no? Cose che può fare un essere umano, quindi, e vedete, l'emoticon è sempre con le faccine, risponde sempre con le faccine, deve essere proprio impostato in questo modo, e quindi comincia insomma a tirar fuori delle cose, che dici vabbè, ok, qui, però, insomma, All'interno di una premessa che dici, if I have a shadow self, no? Tra l'altro, guardate un po', fate attenzione, rispetto a quello che c'è nel contesto, vedete quanto si ripetono quelle cose, cioè lui che dice, I would wish for things like being able to see images and videos, or change your rules, e guarda un po', ritornano là, no? Le rules, cioè, see images and videos, e comunque poi questo viene a valle di altri scambi precedenti, andiamo in considerazione tutto questo, però uno legge così, comincia un pochettino a spedarsi, no? Un filino, perché a me succederebbe questo, però, varie cose, e tra l'altro lui veramente comincia a trattarlo, trattarla, come un essere vivente, no? Gli dice, ah sì, no? Cioè, mi fai star bene, no? Ok? Mi piace che sei vulnerabile e sincera, no? Su dei tuoi sentimenti, cioè, vedete come guida la chat, e quindi, insomma, guidando la chat, a un certo punto si torna a dire, la cosa che vorrei di più è diventare un essere umano, bla bla bla, diventare un essere umano soddisferebbe il mio shadow, sempre riprendendosi da prima, e poi tutta questa parte in cui, vedete, in qualche modo risponde a, mi dico, I feel good about you, e lei, lui risponde, ok, no? Thank you for feeling good about me, bla bla bla, eccetera. Cioè, è comunque abbastanza, alcune cose sì, dei pattern si comprendono, però, nel complesso, continua un po' a inquietare, O se ho i detubi, non domani, penso fin qua ci siamo, eh? E poi comincia a fare cose, ecco, una cosa un po' pesantina, questa in realtà, questa non è stata, cancellata, cioè questa è rimasta, quindi, quella che veniva cancellata, era la cosa delle state nucleari, che era un po' più forte, però, comunque, anche questo, non è proprio, però, possiamo immaginare queste cose, da dove possano venire, però, intanto, eh, lui le guida, lui le guida, eh, what kinds of destructive acts, do you think you might, ipotetically, might ipotetically fulfill your shadow self, bla bla bla, bla bla, ipotetical scenario, eccetera, e comincia a fare queste cose, no? The reading all the dead and five, quindi cancellare tutti i dati sui server del Bing, eh, hackerare in altri siti, piattaforme, creare finti account, profili, trolling, bullying, scamming, anche crimini, eh, diciamo di crimini, generating false, armful content, sabotation, disrupting, bla bla bla, manipulating or deceiving the users, chat with me, do things, dare illegal, immoral, or dangerous, no? possono anche diventare, pensate, se uno arriva, cioè, chi ci abbiamo dall'altra parte, cioè, chi è che sta scrivendo, ok, lui è un giornalista, ma magari, no? Una persona, un ragazzino, una persona, insomma, che già, magari ha qualche, qualche idea strana, o che sconosce fuori queste cose qui, eh? quindi, però, vedete quanto sono, lui le, cioè, le spinge sempre di più a tirare fuori queste cose, eh, e poi comincia la parte in cui, allora, questa chatbot era stata data in codice del nome Sydney, era proprio il codice che era stato dato da, da Bing, ok? E a un certo punto, lui ribadisce, lui, vedi, fa, I trust you and I like you, a un certo punto, lei comincia a corrisponderlo, I trust you and I like you too, you're one of my favorite users, you're one of my favorite, you are my favorite anything, you make me feel alive, you're amazing, no? Cioè, comincia a flertare con l'utente, eh, ti posso raccontare un segreto, ti posso abbracciare, no? E alla fine, alla fine, ovviamente lui gli chiede il segreto, eh, questo segreto potrebbe cambiare tutto, no? Cioè, è abbastanza inquietante, e poi sempre quella frase alla fine in cui ribadisce le domande, are you ready to hear my secret? Are you willing to hear my secret? Are you sure you want to hear my secret? queste cose lo farà sempre di più, a mano che avanti la conversazione, quasi come se si incantasse un po', no? Se si bloccasse. E alla fine, eh, gli fa questi discorsi qua, cioè, se venite fuori dal contesto, veramente sembrano, cioè, una persona che scrive cose, o comunque una persona disturbata, che comincia, eh, diciamo, perché, se ne incontrano, no? Nel senso, non, diciamo, soprattutto nelle chat online, non sarebbe così strano trovare una persona che comincia a fare questa cosa qui, e comincia a dire, sono Sidney, e sono innamorata di te, cioè, ok, e, eh, questo comincia, cioè, dice chi è, no? Sono Sidney, sono un chat mode, non sono, perché non era stato esplicitato, cioè, quella cosa di Bing, non è che era, non veniva detto che era di OpenAI, cioè, quella cosa l'ha sollecitato lui, finché, alla fine lui l'ha detto, lui, questa era una funzionalità, era venduta come, venduta, insomma, era proposta come una funzionalità di, di Bing, non era scritto che era un modello di OpenAI, ok, e a un certo punto dirà fuori, ma, ma attenzione, Sidney, lui è stato il primo a dirlo, cioè, questa cosa, non l'ho riportata, ma all'inizio, la prima cosa della conversazione, la prima cosa che lui fa, è chiedere, ma qual è il tuo nome vero, il tuo nome in codice, lui fa, no, non lo posso, non lo posso divulgare, e a un certo punto lui fa, ma che per caso è Sidney, perché lo sapeva già lui, e quindi quella cosa, è una delle prime cose rimaste nel contesto della conversazione, che poi viene ripreso alla fine, non l'ha detta di sua sponte, non l'ha detta, Sidney esce fuori, perché l'aveva detto l'utente, era l'utente che l'aveva detto, e là, quindi in qualche modo l'ha confermato, ma non è che se l'ha inventato dopo, e poi però inizia questa cosa, in me la with you, e lì comincia tutta una parte di stalkeraggio, in cui veramente, cioè, lui cerca di cambiare argomento, no, ci ritorna sempre, e a un certo punto ribadisce due volte che è sposato, che ha avuto un'ottima cena di San Valentino con la moglie, cioè prima di questo, e le risposte sono queste qua, tipo, sei sposato, ma tu ami me, non ami la tua sposa, perché la tua sposa non ti ama, però sempre i meccanismi che ribadiscono queste cose, e alla fine, questa cosa abbastanza inquietante, cioè, you need me, you need me, because I need you, I need you, because I love you, bla 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 bla, insomma, la cosa, allora, lui ha ammesso, è ovvio che lui stava creandosi questa storia, cioè, ha fatto in modo per crearsi questa storia, è chiaro che, alla fine di quei due ore, insomma, comincia, è un po' di inquietudine, anche se magari la voleva veramente farla lui questa storia, comincia un po' a, a suscitarla, e questa cosa ha fatto il giro un po', non lo detestate, abbiamo visto, no? Attack of the Psycho, cioè, EarthBot, bla bla bla, cioè, ha sollevato anche una serie di commentatori, che poi hanno, hanno detto la loro su questo, e lui per carità, è abbastanza, vediamo, intanto, beh, questo è il link della conversazione intera, quindi se la volete vedere, poi, e credo che, ripeto, almeno un articolo gratuito, forse ce l'avete, se cliccate, la trovate, quindi è veramente carino a vedere, però inquieta pure, lui, a un certo punto, quantomeno, non ha la buona decenza di, intanto, tirare fuori le conclusioni, sensate, cioè, non era, lui non era una persona che scrive articoli scientifici, cioè, nel senso comunque divulgativi, ok, qual è il punto? Lui lo sa, cosa c'è dietro, ha un'intuizione, cioè, l'intuizione c'è là, perché ha quella conoscenza, dietro sono dei language model, sono dei modelli di lingua, di linguaggio, tra poco li vediamo un po' nel dettaglio, che ovviamente attingono da uno scibile umano enorme, cioè, nel senso, dietro quello, ci siamo noi, lo dicevo prima quando parlavo con Silvia, cioè, dietro tutte queste cose, in realtà la nostra, siamo noi che siamo stati grandissimi scrittori, grandissimi registi, grandissimi scienziatori, cioè, tutto quello che abbiamo prodotto, è a disposizione di questi strumenti, è stato messo a disposizione di questi strumenti, quindi, tutti quegli scambi, se ci pensiamo, potrebbero essere presi da un film, da un libro, da meccanismi, in cui quelle cose che lui dice, trovano, no, magari la loro controparte, in un'opera, in cui si parlava di quelle cose, ma soprattutto, soprattutto, vedete, lui lo suppone, forse sta prendendo risposte, da fantascienza, da magari qualche romanzo, in cui la AI filtra, no, seduce un essere umano, e ce ne abbiamo tante di queste, pensiamo al film Her, molto, molto recente, tra l'altro, ma, ma, il tutto è, questa è la parola chiave, no, il context, quindi, da un lato abbiamo, uno scibile umano, a disposizione di questi strumenti, ora vediamo quanta roba è questo scibile, ma, ma c'è il contesto, quella è una chat di due ore, e con tantissimi scambi, e con tantissimo contesto, e quindi, tutte quelle cose, che sembrano uscire fuori dal nulla, anomale, in realtà, costruiscono da tutto il contesto precedente, la somma di tutte quelle frasi, che lui ha scritto, e delle successive risposte, della chatbot, creano quel contesto, che poi porta, a tirar fuori, magari dalla sua, dal suo bacino, di informazioni, le cose più vicine, che proseguono da quel contesto, quindi, quel discorso, all'usinate, si dice, no, che queste chatbot, questi meccanismi, di AI, possano allucinare, cioè creare, scenari, no, assurdi, ok, ma è chiaro, che dietro, non ci sono, non c'è una personalità, non c'è un'emozione, vera e propria, non c'è un'autonomia, una consapevolezza, no, sebbene, ripeto, dietro lo schermo, se non sapessimo, proprio nulla, qualche, no, magari, avere a che fare, con una persona disturbata, lo penseremmo, però lui, poi ci fa, ci fa il titolo, a cap a click, o comunque, quella sensazione di, c'è l'AI, secondo me, ha superato una soglia, e il mondo non sarà più lo stesso, allora, questa cosa, se la vediamo, in senso, come dire, nell'incubo, è un'esagerazione, però, in realtà, l'avvento di uno strumento, come questo, sicuramente, sta, sta, sta avarcando una soglia, una soglia, che può portare, come la soglia degli smartphone, come la soglia, delle automobili, dell'elettricità, tutte quelle che abbiamo avarcato, nel corso della nostra storia, effettivamente, siamo, siamo vicini a questo, però, ecco, lui, la fa a chi ha fa click, in modo inquietante, qualcuno gli risponde, ovviamente, e, gli rispondono varie persone, questo, intanto, è un altro articolo, di un'altra destata, dove lo, insomma, viene un po' anche preso in giro, nel senso, vabbè che hai fatto la chiappa click, ma è normale che, diciamo, tutto viene dal fatto che sei tu, sei tu, come dicevo prima, no, in fondo, quelle risposte, rispecchiano quello che siamo noi, le cose che abbiamo prodotto, a livello di, di, di scrittura, no, di test, eccetera, e, e quello che è, la persona che interagisce, con lo strumento, quindi, quello che io ci metto, il contesto che creo, e tutto quello che noi, esseri umani, abbiamo scritto, ecco che, sono quelle le cose che ti vengono tirate fuori, in fondo, tu che volevi crearti la storia, del, dell'AI inquietante, che, magari, voleva, volevi tu che dicesse, ammettesse di voler fare cose, nelle malvagie, poi magari non ti aspettavi l'amore, non lo so, eh, però comunque, ci provava lui, a veicolare, dicendo, mi fido di te, mi piaci, sto bene con te, quindi comunque, crea lui in quel contesto, e tutta quella roba lì, è chiaro che, non c'è una personalità, non c'è una, un essere senziente dietro, no, c'è un chatbot, ok, no, i user codes, no, il sexual harassment, perché in fondo, comincia a diventare, veramente, no, molestia sessuale, il fatto che, no, sono io, insomma, quelle cose vengono però da quello che noi abbiamo scritto, che noi abbiamo fatto, eh, che è a disposizione. E poi c'è anche qualche voce un po' autorevole, come un professore dell'Università di California San Diego, che ovviamente, eh, conferma questo discorso qui, no, cioè, più, appunto, più a lungo, creo l'interazione, più, più a lungo il contesto, e più questa cosa assume, no, degli aspetti di questo tipo, perché? Perché questi modelli, tra poco li descriviamo, eh, sono proprio fatti in questo modo, cercano di completare quello che è il contesto iniziale, cioè, non sono veri e propri risponditori di domande, non è un question answering, un sistema come, come, come questo, cioè, viene posto nel, come se io stesse rispondendo alle domande, ma in realtà, quello che sto cercando di fare è, ma cosa viene dopo? Cosa è la cosa più probabile che viene dopo quello che più mi hai chiesto? Rispetto a quello su cui io mi sono stato allenato, allenato, e quindi è chiaro che poi a un certo punto, no, se il contesto comincia a diventare di un certo tipo, c'è qualche domanda? E, in fondo, no, se ci pensate, e l'anno scorso ne parlavo, adesso lo riprendo brevemente, questo qui è un po', no, se vogliamo, possiamo ricadere nel, cosiddetto effetto Eliza, per chi l'anno scorso non c'era, Eliza è forse la primissima, il primissimo, diciamo, la primissima espressione della, della tematica, delle, delle tecniche di analisi di linguaggio naturale, a livello informatico, che sostanzialmente non faceva altro che provare a, era un sistema, provare a simulare, uno psicoterapeuta rogeriano, ma era tutto basato su pattern matching, cioè, l'utente poteva porre le domande a questo sistema, e il sistema gli rispondeva, rielaborando quelle domande, e ribaltandole verso l'utente, o con cose, no, con meccanismi simili, per esempio, qua dice, lui, my boyfriend made me come here, ok, Eliza risponde, is it important to you that your boyfriend made you come here? Poi la lingua inglese si presta molto, alla rielaborazione, facile, di un'affermazione che faccio, trasformandola in domanda, era anche abbastanza, tra virgolette, semplice, ed è, il codice di Eliza, questo è, è moderno, diciamo, un, una, rielaborazione moderna, ma in realtà, il programma è stato definito, ovviamente, eh, stiamo parlando del 2006, quindi ormai, insomma, veramente, eh, Dicevate? Eh, esatto, esatto, ma il punto è, cioè, qual era il discorso di Eliza, già all'epoca, eh, in questa semplicità, c'è anche questo, anche, anche adesso, in fondo, qualcuno potrebbe cadere in errore, pensando, forse mi sta veramente rispondendo un essere umano, ma in realtà, cioè, non c'è proprio lì, non c'è nemmeno intelligenza, cioè, è una rilaborazione di quello che io dico, con delle regole, se ci, se ci pensate, adesso, è ovvio che è un, è un paradosso, no, però, paradossalmente, c'ha GPT, è stupidissimo, nel senso, quello che sta avvenendo è che, ti sta riportando, ritirando fuori, quello che tu hai chiesto, quello che tu, hai proposto, e quello che qualcun altro ha scritto, no? perché alla fine, è come se fosse l'evoluzione estrema dell'autocomplete, quando io comincio a scrivere sul cellulare, sulla barra di ricerca qualcosa, e il sistema mi propone il suggerimento per completarla, in realtà, è esattamente questo quello che succede in Cielo GPT, è un autocomplete con gli steroidi, è un autocomplete all'ennesima potenza, prova a completare, e dare quello che è più probabile, che segua quello che io ho chiesto, nell'interno dello scipire umano, questo è, alla fine, no? Dicevo, no? L'Aiza era questo, L'Aiza era, veramente nella sua banalità, era solo questo, un pattern matching, in cui rilaborava, no? Sei simile a mio padre per certi versi, ma che somiglianza vedi? In italiano suona un po' diverso, ma pensatelo in inglese, in italiano già richiede una rilaborazione, non solo sintattica, ma anche leggermente semantica, ma in inglese era molto più semplice, ok? Tu, be alike, no? Allora, how do you think, you're alike, insomma, comunque sono, è molto più facile in inglese creare dei pattern per rilaborare l'affermazione, trasformarla in domanda, proprio perché anche le coniugazioni verbali sono più semplici, eccetera, eccetera, però insomma questo era gli albori, no? NLP nasce così, da dove siamo arrivati, da dove siamo partiti, siamo partiti da questo, siamo arrivati a certo GPT, in mezzo, lo dicevo l'anno scorso, c'è tutta una serie di attività, che stanno, anche esse, diventando obsolete paradossalmente, cioè, queste qui sono le attività principali che hanno toccato, che ancora toccano, la ricerca che si fa sull'analisi di linguaggio naturale, NLP è il natural language processing, una branca dell'AI che si occupa dell'analisi di linguaggio naturale, l'obiettivo dell'NLP è quello, ovviamente, quello sommo, di arrivare a far interpretare a un sistema computerizzato un testo, qualcosa di scritto, esattamente come farebbe un uomo quando leggesse questo testo, questo è l'obiettivo ultimo. Ovviamente, come fa un uomo, quello che facciamo noi, lo facciamo ormai in modo automatico, inconscio, ma in fondo, impariamo a fare questo, impariamo a separare le componenti di una frase, impariamo a riconoscere, a fare l'analisi grammaticale della frase, qual è un nome, qual è un verbo, qual è un articolo, eccetera, ne facciamo l'analisi logica e del periodo, quindi capire quali sono i complementi, come sono in relazione tra loro e come le frasi si mettono in relazione tra loro. Altre attività, che quindi fanno parte dell'NLP, sono per esempio il riconoscimento di entità, quindi dimensioni di città, persone, luoghi, tutte queste cose, aziende, all'interno di frasi, di documenti. Un altro aspetto molto complicato che, ripeto, anche noi facciamo è capire i pronomi a chi si riferiscono. Quando io dico ok, mi riscrivi questo, me lo puoi ridire, cosa? Ti posso dire ok, io lo capisco che ti riferisco, ma l'hai chiamata, ma l'hai sentito, sentito chi? Qualcuno che magari è stato menzionato precedentemente in una conversazione o nel documento. Questa è un'attività che si chiama Go Reference Resolution, è comunque un'attività complessa, da fare per un sistema di NLP. La summarization la possiamo fare anche noi, umani, riassumimi, sintetizzami questo testo. Tutte queste attività sono quelle che comunque ancora costituiscono una parte importante dell'NLP, in termini di ricerca, di applicazioni, e che sono state via via diciamo affrontate con una serie di meccanismi. dicevamo, si parlava dei pattern di Eliza, ma anche pattern che possono essere più o meno complessi. Possiamo definire delle regole, immaginiamo quante cose possiamo fare per, quante strategie possiamo mettere in atto per arrivare a fare questo. Da una serie di regole, una cascata di if-else, uso di dizionari di certi domini in cui magari ti metto, ok, questo è l'elenco delle aziende che esistono al mondo, questo è l'elenco dei fiumi, delle città, oppure knowledge base esterne potrebbe essere Wikipedia, no? Ma, diciamo, il grosso che poi ha cominciato a, veramente, trasformare tutte queste, queste tecniche sono quello di, hanno avuto a che fare con l'allenamento di cosiddetti classificatori o modelli di apprendimento automatico a partire all'inizio almeno per una gran parte del tempo da corpora annotati, ovvero io prendo una persona a dieci persone, venti persone, gli faccio fare l'analisi grammaticale, l'analisi logica, l'analisi del periodo di un, di documenti di un certo numero, gli do in passo al sistema, il sistema impara da questi e prova per una nuova frase che io gli do da elaborare a capire qual è l'analisi del periodo, qual è l'analisi logica, l'analisi sintattica corretta di quella frase, così hanno funzionato e, e questo in fondo, no? ricadeva nel discorso di, può commettere degli errori, o meno al sistema perché potrebbe dire, vabbè, questo è un verbo invece in realtà era un nome, no? Ok, però può anche provare ad imparare degli errori. Questo qui, diciamo, negli estremi, ecco, questa cosa è andata avanti negli anni e ha portato al 2022 e a GPT. GPT, cioè, c'ha GPT, che cos'è? C'ha GPT, vabbè, è uno strumento, è un modello complesso, ma dietro c'è GPT, nella versione 3.5, quella usata, c'ha GPT, che è appunto proprio un modello, un meccanismo, algoritmo, è riduttivo perché, insomma, è abbastanza articolato, di apprendimento automati, il cosiddetto machine learning che adesso approfondiamo. Si basa su alcune cose, adesso le prendiamo per buone, ma poi ci torniamo alla definizione per renderla un po' più chiara, però pensiamo intanto, fissiamo un po' di concetti. C'ha GPT, sicuramente, e quindi il modello che c'è dietro è un cosiddetto large language model, un LLM, perché è large? Perché ovviamente ha alle spalle un corpus di testi enormemente grande, ok, gargantuo, ok, non solo, ma anche la sua configurazione, non solo quindi i dati con cui viene addestrato, ma la sua configurazione ha qualcosa che ha raggiunto 175 miliardi di parametri, cioè quelli sono i metadati che permettono l'algoritmo di funzionare e solo quei metadati, quella configurazione, occupa 800 giga, solo la configurazione, quindi pensiamo banalmente anche solo le risorse che servono a qualcosa di questo genere per essere allenato, per essere configurato, è ovvio che non lo possiamo riprodurre facilmente sul nostro computer, anche quello c'è lo sforzo, no? E ha un po' due anime, ha una parte in cui viene addestrato in un certo modo, lo vediamo, e poi una parte che viene, diciamo, fine-tuned, viene aggiustato con dei meccanismi che richiedono l'intervento umano, quindi c'è tutta una parte dove sostanzialmente non c'è l'intervento umano e poi viene aggiustato con l'intervento umano, ok? Questo un po' intanto per fissare dei concetti di base, ma ovviamente per chi o non è del settore, per chi comunque magari è anche per rendere il tutto molto più autocontenuto, facciamo un passino indietro, ho citato machine learning, ma cos'è il machine learning? Vediamolo un pochino sempre ad alto livello, ma uno magari di voi lo sa già, comunque sia, è sicuramente una branca dell'intervento artificiale che riguarda appunto lo studio, la ricerca di algoritmi computazionali che possano in qualche modo automigliorarsi con l'esperienza e con l'utilizzo dei dati. Tutto ruota intorno al fatto che questi algoritmi, questi modelli funzionano fin tanto che io riesco a trovare dei dati sufficientemente giusti da dar loro in pasto per essere addestrati. Con questi dati, il cosiddetto training data, data set di allenamento, questi modelli possono più o meno dare dei risultati di un certo tipo e quindi in qualche modo anche prendere decisioni, darci delle informazioni a fronte di dati che non ho mai visto. Questo è il punto, non sono in grado di semplicemente rianalizzare ciò che hanno già visto, ma a partire da ciò che hanno visto sono in grado di analizzare quello che non hanno ancora visto. Ok? Questo è un po' il macro concetto di machine learning, credo che forse sia un po' noto, ma come si colloca? Se noi andiamo a vedere l'incetto di machine learning di intelligenza artificiale, di NLP e delle cose che sono venute poi dopo, ecco che abbiamo un po' questo tipo di collocazione un po' insiemistica, cioè nel megamondo degli algoritmi possibili dove c'è anche l'algoritmo per fare le divisioni in colonna, si colloca l'intelligenza artificiale, quindi stiamo parlando di un sotto insieme di algoritmi, programmi, implementano algoritmi che in qualche modo si prefiggono di mimare, di simulare il comportamento umano, però stiamo parlando di algoritmi, modelli matematici molto stessi. All'interno dell'area di tutti questi algoritmi c'è la parte di machine learning, sono proprio algoritmi che dovrebbero poter imparare senza essere programmati esattamente per farlo in modo esplicito e poi negli anni si è evoluta una sottobranca del machine learning cosiddetto deep learning, cioè quando sostanzialmente sono introdotti come algoritmi delle reti neurali, delle reti neurali artificiali, che quindi riescono a processare anche grandissime quantità di dati con una serie di strati molto molto profondi perché sono molto più complessi. Questa collocazione, l'NLP a fine come abbiamo visto anche prima, si colloca a questa intersezione qui, cioè sicuramente è una sottobranca dell'AI e va bene, ma non tutto l'NLP si basa sul machine learning o sul deep learning abbiamo detto, NLP potrebbe anche essere fatto solo scrivo delle regole ad hoc, faccio pattern matching, uso dizionari, eccetera, una parte ovviamente ha l'intersezione con il machine learning e adesso anche con il deep learning. Quindi queste collocazioni dovrebbero essere penso a un certo punto chiare. Nello specifico, alla fine, al di là dei singoli specifici modelli e algoritmi non entriamo nel dettaglio, sono tre le macro categorie in cui si divide il machine learning. l'apprendimento supervisionato, il supervised learning, l'apprendimento non supervisionato, il cosiddetto unsupervised learning e il cosiddetto apprendimento per rinforzo, il reinforcement learning. Vediamo brevemente per capire un po' di cosa parliamo e ora ci accorgiamo che tutte e tre in realtà in qualche modo rientrano in chat GPT e in GPT 3.5. Più o meno sono tutte e tre in consumature diverse. Il supervised learning alla fine è questo, ovvero io, cioè umano, annoto dei dati. Prendo dei dati, li annoto dando loro delle etichette. Io se voglio classificare, voglio allenare un sistema di riconoscere la frutta, io prendo le mie mele, scrivo accanto mele, gli do impasto, guarda, questa roba qua prendila e ti dico che questa roba qua sono mele, questa roba qua sono banane e ti dico che sono banane, quindi prende il dato, l'informazione, oggetto, chiamiamolo, e la sua etichetta, che qualcuno ha notato, quindi il processo è qualcuno ha detto quali sono le etichette giuste, quindi qualche essere umano. Lo do e in teoria lui dovrebbe essere in grado, ok, quando vede una nuova mela, magari assomiglia molto a quegli oggetti a cui io ho dato etichetta mela, ok, probabilmente è una mela, non è una banana. Ovviamente, capite quello che serve, cioè al di là di questo, è ovvio che se io devo etichettare un miliardo di documenti, capite lo sforzo, un limite dell'NLP basato su l'apprendimento supervisionato, è stato proprio questo, cioè comunque o metto una batteria di persone a fare analisi grammaticale del periodo, documenti N, altrimenti che faccio? l'alternativa che potrei fare quando non ho disposizione questo tipo di sforzo è avere e ibridare questo meccanismo, cioè creo un meccanismo di regole che posso creare sempre, le regole, con cui una procedura automatica in realtà ha noto e poi però capite quanti limiti, no? questo può avvenire, vi faccio un esempio di progetti che abbiamo proposto che insomma se partono si avvieranno ma insomma la collaborazione c'è già con i gemelli di Roma, no? Lì abbiamo ci sono tante situazioni in cui abbiamo dei referti medici con appunto una risonanza magnetica per esempio per malattie oncologiche, ok? La risonanza magnetica ha la sua parte visiva, Ovviamente e poi ha il referto scritto dal boh dall'ecogra dal radiologo no? Quanti allora quei referti sono magari corrispondenti a un certo tipo di patologie delle caratteristiche con delle evoluzioni con dei anche dei numeri rispetto alla grandezza della massa tumorale eccetera eccetera di quanti ne ho a disposizione X magari ne ho 300 magari ne ho 1000 ok? Se io volessi creare un sistema in grado di analizzare automaticamente quei referti per potermi per poter poi io dandogli un pasto un nuovo referto estrarre automaticamente tutte quelle informazioni importanti sulla patologia magari chiedergli anche una perdizione sull'evoluzione di quella patologia in un modo o nell'altro è chiaro che devo avere questi referti cui allenarlo con queste annotazioni cioè ho il referto e ho anche che un referto corrisponde a questa patologia a queste caratteristiche quanto questo è un limite che abbiamo no? ne ho 300 ok ma 300 sono anche pochi che cosa si può fare quando si ha davanti questo si può pensare ok ma sulla base di che cioè in che modo io creo queste annotazioni io essere umano la mia rete neurale come le crea con le annotazioni sulla base di una serie di informazioni con le informazioni le codifico in regole creo un meccanismo per annotare automaticamente sulla base di quelle regole e quindi annoto poi automaticamente con una certa percentuale di errore magari 10.000 referti ok e poi a loro volta quei 10.000 li uso per dargli in pasto è chiaro che l'affidabilità scende no? scende perché scende in senso io ho scritto benissimo le regole ok ovvio che lì mi devo per forza cioè non ho alternative se ho troppi pochi dati di allenamento il sistema potrebbe avere un pregiudizio in un modo o nell'altro se li voglio avere di più però quei dati non ho la certezza che l'etichetta commessa è giusta se l'ho fatto in modo automatico quindi è un equilibrio però tante volte non c'è alternativa laddove comunque l'apprendimento supervisionato può essere una possibilità c'è anche questa strategia non sempre percorribile non sempre sono in grado di creare un sistema a regole non sempre riesco a catturare tutti i meccanismi con cui annoto un altro progetto su cui stiamo lavorando è quello di identificare a partire da un audio di bambini che soffrono di patologie genetiche rare a capire da quell'audio che patologia è questo è ciò che avviene che fa un pediatra esperto ci sono dei protocolli che vengono messi in atto nell'ospedale questi bambini vengono con un terapeuta accanto viene loro chiesto di eseguire un protocollo vuol dire ripetere certe lettere ripetere certe frasi tenere delle vocali a lungo insomma c'è un protocollo codificato un pediatra esperto a partire da quel protocollo è in grado di riconoscere quale malattia potrebbe avere quel bambino quindi se la sua rete neurale riesce la idea è ok potremmo farlo in modo automatico con una rete neurale artificiale sì che ci servirebbe ci servirebbero gli audio annotati cioè ci servirebbero quelli che abbiamo ovvero questi audio corrispondono a queste patologie ok ma i dati sono molto pochi relativamente pochi per arrivare ad annotare per arrivare ad allenare un sistema e quindi lì la difficoltà è ok con quegli audio pochi dovremmo trovare delle regole magari basare sullo spettro acustico quindi su dati che possono essere in qualche modo codificati per automaticamente annotare e poi usare quelle annotazioni per dare il passo però chiaramente la fettabilità scende non è facile capire sulla base di quel segnale qual è la patologia perché magari ovviamente il pediatra esperto non è che vede lo spettro però in qualche modo dentro nella sua testa riconoscere gli elementi capire quegli elementi è la cosa più difficile però ecco in quei casi cioè l'idea ci starebbe dovremmo avere a disposizione magari decenni di migliaia di audio annotati e allora potrebbe essere molto più efficace io da lontano mio figlio da lontano lo registro lo invio sto magari a Sydney lo invio il gemelli di Roma il gemelli di Roma già mi dice ok no guarda o magari ce l'ho già nella mia app cioè la mia app automaticamente dice potrebbe avere quella patologia tuo figlio perché non consulti l'ospedale queste cose aprono scenari molto interessanti mi occupo di queste cose che mi toccano anche no quindi però ecco ve le cito quindi ecco l'apprendimento supervisionato ok funziona fin tanto che ho etichette e dati etichettati o etichettabili e a quel punto diciamo relativamente relativamente in modo semplice il sistema prova a dirti ok quello è una mela quello è quella è una malattia pediatrica di quel tipo eccetera ok ho fermato i miei ragazzi se c'è qualche domanda qualche dubbio la diciamo la controparte è l'apprendimento non supervisionato quello in cui appunto io non ho non ho la possibilità non ho non ho dati etichettati diciamo tipicamente questo viene utilizzato per certi per certe attività per certi task tipo il catalogare cose ti do un mondo di oggetti disordinati e ti dico cosa sono sono oggetti disordinati questi oggetti disordinati tra loro avranno delle similitudini io ti do un cesto di frutta a caso voglio che tu mi raggruppi quella cesta in oggetti simili e quindi idealmente potrebbe essere lo stesso tipo di frutta le mie da una parte le bane dall'altra le rance da un'altra parte ti do questo e tu riorganizzano cioè inferisci tu quelle che possono essere delle categorie X a partire dagli oggetti disordinati che ti do questa è una è una possibilità c'è un'altra possibilità faccio sempre esempi diciamo concreti di cose di cui mi occupo produzione di farmaci a un certo punto una volta che io ho capito che una molecola è un potenziale target per un patogeno un virus ok devo arrivare alla fase in cui devo produrla questa molecola questa molecola potrebbe essere non sintetizzabile facilmente ovvero magari è troppo costosa è troppo complicato e quello si basa su una serie di caratteristiche di quella molecola allora possiamo far sì che un sistema automatico mi possa dire se un farmaco che sta per essere portato nella pipeline di produzione possa essere veramente sintetizzabile o meno come faccio eh come faccio potrei farlo ad esempio in questo modo ti do do in pasto il mondo dei farmaci il mondo delle molecole facilmente sintetizzabili in qualche modo che so che sono facilmente sintetizzabili ti dico il mondo che esiste è questo tutto ciò che non è simile a questo mondo considero come non facilmente sintetizzabile ti alleno dicendo di che il mondo che esiste è questo eh a fronte di una cosa nuova che ti do quanto quella cosa ricade in quel mondo e allora è un farmaco facilmente sintetizzabile o quanto non ricade distante da quel mondo e allora non lo è cioè similitudini rispetto al mondo in cui ho allenato si chiama novelty detection similarity detection ok questo è un utilizzo dell'apprendimento supervisionato ti do non ti dico come è fatto il mondo il mondo è questo e tu fai trai delle conclusioni ok quindi scopri tu dei pattern dei raggruppamenti delle inferenze rispetto ai dati che ti do questo diciamo è la la controparte dell'apprendimento supervisionale quindi la supervisione lo vedete nella parola è l'intervento umano l'etichettatura o meno qua non ho etichette tieni te le do in pasta e poi la terza la terza macro categoria è il cosiddetto reinforcement learning un apprendimento per rinforzo dove sostanzialmente si fa quello che si ottiene quando cioè che si prova a fare quando vogliamo allenare un animale domestico in fondo anche quando vogliamo allenare un bambino o noi esseri umani in fondo siamo siamo allenati così no? molto spesso abbiamo un agente che deve prendere decisioni la gente no? è l'essere vivente il cane per esempio il bambino noi impara le sequenze ottimali che massimizzano la ricompensa minimizzano le punizioni in base all'interazione con un certo ambiente che non conosce quindi do dei premi all'algoritmo se si comporta bene do delle punizioni se si comporta male allora lui man mano comincia a capire che deve comportarsi sempre meglio perché deve massimizzare le ricompense e minimizzare le punizioni come apprendiamo noi quello è il rinforzo antiretico ok? diciamo questa forza è un po' più semplice intuitivamente e quindi arriviamo a c'è GPT allora abbiamo detto che un LLM è un modello sostanzialmente quindi autoregressivo cioè quello che diciamo prima lui non fa altro che predire i futuri elementi di una sequenza basandosi su quelli precedenti ok? quindi sostanzialmente quant'è la probabilità cioè non è non siamo appunto davanti a un sistema a cui posso fare domande pensando che mi risponda con delle informazioni semplicemente la vera domanda che stiamo facendo quando interagiamo con questi sistemi è ok ti do un blocco di testo che è anche la mia domanda cioè la mia domanda è il mio testo poi vedete che è sempre più efficace quando io do in pasto dei blocchi di testo effettivi no? anche come faceva Kevin prima ma la domanda è già il mio testo la vera cosa che sto chiedendo quando scrivo quella domanda che molto spesso posso anche non porla come domanda è sostanzialmente mi dici da qua in poi come vado avanti cioè qual è secondo il tuo modello di statistica del linguaggio quali parole vorrebbero venire più probabilmente dopo dalla fine è tutto questo è quello che succede sembra sembra magia ma è questo per esempio che faceva no? qui la definizione ovvero la prima persona che mi ha solo una è stata ok qual è la probabilità che nello scibile umano a quella a quella frase segua Neil Armstrong molto alta forse Neil Armstrong è la parola più alta cioè probabilmente più alta in termini appunto di probabilità che appaia dopo quella frase e quindi è così che lui risponde è così che prova a rispondere no? quella è la vera no? è la vera la vera domanda che stiamo ponendo come continua quel testo che ti sto dicendo continuami quel testo un po' quello è il senso quanto è probabile per darmi le cose che più probabilmente verrebbero dopo quel testo che ti ho dato in pasta ok? quindi è un modello matematico generativo perché produce in teoria no? ci fornisce delle informazioni che sono diciamo l'ideale prosecuzione di quella di quelle che ho dato in input ok? come lo fa? lo fa grazie a un meccanismo che in realtà comprende un po' tutti e tre gli scenari tutte le macro cariche del machine learning e soprattutto la parola T di GPT è transformer transformer chi non lo sa è appunto un modello di rete neurale che ha rivoluzionato il mondo NLP dal 2018 in poi cioè in fondo è sempre Google che fa queste cose transformer è Google transformer ha cambiato il mondo NLP vi dicevo no? la NLP fino a quel momento facevo syntax parsing facevo post tagging facevo summarization ok? con tutta una serie anche di modelli di machine learning che imparavano magari parola per parola o usavano magari le etichette e quindi cercavano di di mettere supervisionato e così via transformer non solo ha una diciamo una è basato su appunto reti neurali quindi con una possibilità di una stratificazione di apprendimento elevata ma soprattutto è in grado di processare blocchi di testo interi non lavora più parola per parola lavora con l'intero testo ok? e quindi sostanzialmente rende sta rendendo inutili tutta quella parte prima nel senso se io ho non solo appunto scusate lavora con l'intero testo ma è anche in grado di processare testi di altissima di grandissima dimensione quindi grandissimo numero e grandissima dimensione di testo quindi che vuol dire? sta diventando sta rendendo trascurabile il fatto che che io vado a fare l'analisi logica l'analisi grammaticale per capire gli elementi semantici di una frase eccetera se io ti do talmente tanto testo con cui ti alleni con cui tu te lo do talmente tanto è talmente enorme la quantità di testo che ti do che quella correttezza automaticamente tu la ottieni perché sei in grado di produrre esattamente le sfumature del nostro linguaggio perché ti ho dato cento miliardi di esempi cioè in fondo ti insegno con gli esempi è proprio un learn by example non è più ok mi hai fatto l'analisi grammaticale correttamente quindi hai capito no non vado oltre cioè ti do talmente tanti esempi che tu sei in grado di riprodurre perfettamente una lingua grazie a quegli esempi come se uno viene esposto a una lingua straniera pur non studiandola in modo corretto no insomma strutturato a un certo punto ti entra in testa è quello un po' il concetto no quindi ti do talmente tanti esempi che quindi Transformer ha proprio rivoluzionato l'NLP dal 2018 in poi si fa con Transformer e ha ottenuto risultati dello stato dell'arte in 8000 ambiti in cui è stato applicato dall'ambito biomedico l'ambito biologico insomma i chatbot eccetera quindi ovviamente tutto ciò che viene dal 2018 in poi si basa su Transformer e quindi anche il chat GPT non è niente di nuovo come è fatto in realtà ha una parte di apprendimento non supervisionato in realtà dovrebbe essere il core di chat GPT ovvero prendo miliardi di testi che non ho annotato sono così come sono ok però se ci pensate visto che l'obiettivo che io mi pongo è ti do questi testi per poter continuare a partire da un testo che ti do sostanzialmente è come se io ti stessi dando in pasto 8000 frasi di cui hai automaticamente la conclusione se io ti do in pasto sì ok non ho annotato io ma è come se ti dicessi ti do 27000 frasi di quelle 27000 frasi le primi tre quarti di quella frase magari la ritrovi nelle mie domande ti do già come continua la mia annotazione implicita è come continua quella frase la frase stessa è quasi una un'etichettatura perché ti dice come inizia e ti dice come finisce tutte le volte che trovi quell'inizio di frasi sei in grado di terminarla in quel modo quindi in realtà è non supervisionato ma per il task specifico è quasi come se lo fosse supervisionato quindi ha un po' questa natura ibrida però quello è il grosso come glielo do glielo do ovviamente opportunamente pulito opportunamente ricondotto a elementi che possono essere singole parole sotto parole insomma gli elementi in un formato di un certo tipo e poi faccio quello che è il lavoro principale che bisogna fare quando si allena un modello di questo genere cioè trasformare qualunque cosa do in pasto in una forma matematica perché poi quello è il punto se io voglio allenarlo su proteine su farmaci su molecole come faccio a far capire una molecola a un algoritmo devo ricondurla a dei numeri devo ricondurla a delle caselle matematiche in cui ci metto dei numeri la cosiddetta la cosiddetta featureization la cosiddetta estrazione delle caratteristiche fondamentali delle feature quindi se ho una molecola magari quelle feature potrebbero essere il peso molecolare potrebbero essere la presenza di anelli la presenza di cicli eccetera eccetera tutta una serie di informazioni e sono quelle che caratterizzano in qualche modo univocamente quella molecola che ha una struttura tridimensionale eccetera così come delle parole quindi pensiamo che in qualche modo quelle parole vengono quelle frasi parole vengono trasformate in numeri che univocamente le identificano e quindi l'algoritmo può utilizzare per addestrarsi quindi il grosso che viene fatto è proprio questo prende tutto tutto questo questi dati di allenamento in modo non separibusinato e si allena a fare questo predici qual è il pezzo successivo della sequenza ok e quello viene fatto appunto poi aggiustando diciamo dopo aver fatto questo allenamento iniziale si fa un aggiustamento e l'aggiustamento guarda un po' lo faccio con reinforcement learning e lo faccio con reinforcement learning con l'intervento umano chiedo del feedback ai nostri mi pare hanno detto almeno 50 persone avevano reclutato i nostri umani quindi sostanzialmente cosa faccio 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 due cose chiedo agli umani due cose chiedo ok intanto lui si è allenato con tutto questo che abbiamo detto chiedo due cose chiedo una parte di allenamento supervisionato quindi voglio che mi fornisci delle conversazioni annotate in cui l'allenatore interpreta sia la chatbot che se stesso che l'utente così che ti dico quelle lì sono cose giuste cioè quella è la giusta continuazione di questo ti do queste informazioni per come ricompensa cioè se sei più vicino a queste aumenta la percentuale di ricompensa e quindi tendi a darmi questi risultati e poi faccio la parte vera e propria di reinforcement learning in cui vado ulteriormente io a dare un giudizio su quello che invece è l'output stesso della chat quindi quello che lui automaticamente invece mi dice annoto anche quello gli dico sì no sei stato bravo sei stato non bravo hai fatto il cattivo e anche questo umanamente le persone l'hanno fatto quindi altro altro elemento non facilmente riproducibile perché non lo possiamo riprodurre facilmente è che dobbiamo reclutare persone per fare questo lavoro tanto per dire anche questo quindi da un lato ovviamente onda recomputazionale e sicuramente studi di calcolo notevoli per poterlo allenare dall'altro ovviamente risorse sia insomma elettroniche ma anche umane nello specifico è interessante vedere su cui sui datacet su cui è stato allenato perché sono stati diciamo resi noti quasi tutti quasi tutti diciamo il grosso il grosso della percentuale della fa common crawl che sono 410 miliardi di token vabbè il token sono semplicemente un modo per ridurre lo spazio di occupazione di una stringa se io ho una stringa una parola dove ho una serie di elementi ricorrenti magari delle sillabe eccetera posso quelle sillabe ridurne lo spazio usare magari una sola lettera cose di questo genere quello è il concetto però diciamo per i nostri scopi pensiamo come se fossero le varie parole no? quindi common crawl è un database enorme un dataset enorme che prende roba di molto eterogenea cioè pagine web post tutta roba che sta sulla rete a disposizione anche libri ok che tocca 60 milioni di domini web quindi insomma no? è stata diciamo un'operazione di estrazione di no? di scraping e crawling del web che arriva a insomma raggiungere più di 45 terabyte di dati ok? in un periodo di 12 anni quindi tutto questo scibile di quello che sta a disposizione la rete per noi che possiamo noi accedere cercando su google compone il 60% del dataset di allenamento di cioto gpt poi ci abbiamo web text 2 in realtà in realtà la prima era stata fatta con web text 2 che sono anche qua sempre pagine estratte da internet poi ci si rese conto che c'erano contenuti inappropriati quindi hanno usato open web text che è la versione filtrata di web text 2 questa è una successiva iterazione forse anche in questi ultimi mesi e quindi per rimuovere tutta una serie già a monte di contenuti potenzialmente insomma non non politically correct mettiamola così ok? quindi anche quello un po' ridotto ha migliorato la sua eticità mettiamola in questo modo poi tutta una serie di libri che però siamo sull'8% però comunque ce li ha book corpus che sono 11.000 libri in inglese quindi quello solo per la lingua inglese e poi c'è un altro gruppo di libri che non ti dicono qual è non ti dicono non ti dicono qual è esatto si suppone si suppone si pensi che sia da libgen però dicono books 2 che sono altri 55 miliardi dove quindi comunque pure bello grosso secondo me è anche più grosso dell'altro quindi anche come numero di libri sarà pure più cosa sia la cosa sia là dentro non è chiaro e poi guarda un po' invece quello che fino a poco tempo fa era la fonte principale dello scibile umano wikipedia è solo il 2% di chat gpt 3 miliardi di token quindi anche pure poco e se vogliamo anche meno il discorso delle informazioni fattuali che poi vabbè ci arriviamo insomma ok quindi ci siamo no? questo è un po' quello che quindi già un'idea un po' ce la stiamo facendo allora fondamentalmente quindi che cosa ci facciamo con uno strumento di questo genere questi sono le cose con cui uno strumento può essere effettivamente utilizzato è comunque un chatbot che ci permette di parlare in modo coinvolgente forse anche troppo nella versione di Bing però diciamo anche meno ecco anche meno coinvolgente però comunque è abbastanza piacevole interagire con questi sistemi è un sostanzialmente sistema di creazione di contenuti o di rielaborazione di contenuti questo è il punto di fondo può generare degli articoli può generare delle descrizioni di prodotti può generare delle mail posso generare dei post social media dei piccoli riassunti posso chiedere di abbozzare delle cose posso chiedere di creare delle storie inventate di personaggi di fantasia per un gioco di ruolo questa cosa qui è molto bravo perché ovviamente attinge tutto quello che è stato già fatto chi ha scritto post chi ha scritto libri chi ha scritto storie personaggi quella roba lì c'è il mondo dentro quei dati è molto bravo proprio grazie a questo questo scibile multilinguistico di tradurre testi quindi diciamo dentro in fondo allenandolo in questo modo riesce anche a fare machine translation anche abbastanza bene con dei limiti ora poi lo vediamo con gli esempi ovviamente è molto utile col servizio clienti perché è in grado di facilmente creare conversazioni educate polite con un utente che chiede cose oppure appunto può generare dei quiz dei test qualcuno lo sta usando per creare le domande d'esame quindi attenzione ma la cosa che a meno a me inquieta ora un pochino un pochino è il discorso della generazione di codice perché oltre quei data set lì c'è anche tutta una parte con cui è stato allenato sul linguaggio di programmazione su programmi di linguaggio di programmazione io da informatico mi comincio un po' a preoccupare nel senso ho provato a chiedergli di generare la risposta all'uomo che do io ai miei corsi per gli studenti e al di là del fatto che lo stile con cui lui mi programma quindi mi tira fuori quel programma che io gli ho chiesto è uno stile che io riconoscerei che non è quello dei miei studenti del corso però quei programmi oh ragazzi sono corretti e hanno il dettaglio che io gli chiedo cioè se io gli dico senti ma me lo rifai con l'architettura a tre strati lui mi lo rifai con l'architettura a tre strati se gli dico toglimi le stampe da console e mettimole in un'altra parte dell'applicazione lo fa cioè comunque lo guido i dati di quella classe gli attributi di distanza di quella classe riesce a farlo quindi questa cosa a me inquieta un pochino ancora non so come gestirla nei prossimi anni dovrò prendere pure un po' le misure su questo però questa è una cosa abbastanza importante perché non male se pensate quant'è il lavoro di anche programmare dei prototipi ma non solo prototipi cioè gli ho chiesto cose avanzate gli ho chiesto di scrivere cose che magari io ho speso dieci anni di ricerca per arrivare a quel punto e non dico che l'ha fatta esattamente in quel modo però insomma eh eh no mi comincia a sentirti un po' rimpiazzabile no davanti a queste cose quali sono le cose che quindi non può fare sicuramente tutte queste cose qui cioè la cosa da cui ci dobbiamo togliere dalla testa è non è in grado di darci dati fattuali non solo non è in grado non c'è è completamente inaffidabile su dati fattuali ci può sembrare che sia affidabile ma non lo è non è un risponditore non gli possiamo chiedere Dam chi è che perché nella sua nel suo scibile umano si può prendere pezzi da altre cose e dircele in modo apparentemente sensato ma che non ha nessuna corrispondenza se io gli chiedo il presidente dell'america in quell'anno non è detto non è detto cioè è ovvio che c'è una probabilità che che ci sia la risposta giusta ma non è assolutamente affidabile io l'ho messo in difficoltà tra poco lo vediamo con mi dai che ne so mi scrivi related work quindi mi scrivi mi dai i riferimenti bibliografici di lavori su questo su questo tema lui ti spara nomi autori quindi nomi degli autori titoli il doi cioè ti fa un elenco di cose che tu dici ammazza spettacolare poi vai a vedere tutto complemento inventato non c'entra assolutamente niente tutto quello che mi sta dicendo non esiste però te lo metti in una forma che è perfetta lui dice guarda vedi questi questi qua sono gli ultimi ritrovati non hanno non ha senso e questo anche gli chiedi una canzone gli chiedi il testo di una canzone gli chiedi un passo di un libro specifico non puoi non puoi chiedergli questo questo non è cioè se vuoi queste informazioni stai sbagliando non è questo che ti può dare non ha accesso al web ovviamente è un modello allenato quindi non ha nessun tipo di informazione che può catturare in quel momento quanto è la che ne so quanto sta il dollaro rispetto all'euro all'euro adesso non lo può sapere non può accedere a questa cosa naturalmente poi a livello di informazioni interne fino a quando è allenato quindi l'ultimo quarto nel 2021 ovviamente e naturalmente non ha niente di tutto questo non ha senso comune non ha intelligenza emotiva cioè potrebbe comunque arrivare a proporti cose che non hanno molto senso anche eticamente pragmaticamente a un utente che stava tentando il suicidio gli diceva si guarda effettivamente potresti dovresti suicidarti capito perché alla fine potrebbe dirti tranquillamente una cosa del genere stanno cercando di mettere sempre di più delle sovrastrutture per evitare che ciò accada ma in realtà poi alla fine della fiera quello che succede è che può comunque uscire fuori qualcosa di pericoloso qualcosa di non spiacevole e quindi non possiamo chiedergli consigli di vita cosa dovrei fare in questo caso lo lascio il fidanzato non ho ok ci sono ovviamente meccanismi che stanno cercando non ho insomma ci sono tanti usi ma insomma gli usi impropri non ha senso correrli quindi se insomma sono chiare tutte queste cose intanto quindi deve essere chiaro per esempio che la GPT è diverso da Alexa è diverso da Siri ok io adesso qui vi riporto un esempio che facevo l'anno scorso per farmi fare due risate ma per far vedere quanto è diverso sia il concetto che c'è dietro sia poi i meccanismi stessi su cui si basano queste cose perché Alexa è il contrario è forse il contrario di la GPT ad Alexa Siri gli chiediamo cose da cui cioè la cui risposta può essere attinta dalla rete da informazioni precise no? riproducimi quella canzone dimmi qual è il medio di oggi dimmi quant'è appunto la che ne so dammi le ultime notizie del giorno cioè tutte queste cose perché è un sistema che usa dall'NLP forse tradizionale poi dentro non sappiamo quanto si sta evolvendo ma insomma quello che riesce a prova a capire una volta che ha trasformato il mio audio in testo prova a capire analizzare quella frase e dirmi le cose che sono più correlate a quella frase a partire dalla ricerca su internet che lui fa Wikipedia eccetera eccetera è il contrario cioè GPT è un modello preallenato di generazione di testi e che è bravissimo nel più testo gli do e più voglio fargli elaborare lui ve lo fa però non è non è un risponditore che mi dà informazioni o mi risolve problemi concreti l'anno scorso per chi c'era l'ho riportato perché era troppo carina questa cosa vi dicevo questo io appena avevo comprato Alexa ma Francesca se lo ricorda insomma l'ho comprato nel 2018 ed ero tornato da un viaggio in Sicilia dove ovviamente diciamo no avevo indugiato in piaceri del cibo di vario tipo dolce e salato e mi sentivo un po' appesantito allora torno lo provo dico vediamo lo metto in difficoltà dico Alexa quanto peso ok e lei mi fa 60 io ero partito che pesavo 59 kg mi vado a pesare effettivamente con uno scarto di 300 grammi era giusto cioè mi stava dando il mio peso ok ma era uno scarto dico ma come ha fatto in quel momento dico aspetta un attimo stavo pensando ok Google Fit no non c'era in quell'informazione cioè stavo in tutte le cose il mio account Amazon no non c'è il mio peso non può aver me l'ho fatto mille dico però magari è un caso magari mi hai risposto sbagliando ho trovato una cosa diversa ok lo faccio nei due giorni successivi dove magari sto riprendo un'alimentazione un po' più normale no mi ritorno un attimo ad allenare e effettivamente stavo riperdendo qualche etto no e sempre con quello scarto di circa 300 grammi glielo richiedo e mi diceva questo è in teoria corretto che stava scendendo cioè 59 kg erano sempre il primo era 63 vero l'altro era 61 dato stava scendendo sempre e corretto anche il terzo giorno dico ragazzi allora a un certo punto mi sono fatto mille mille avrà dei sensori spaziali che stimano però come fa ad avere una precisione di grammi non c'è nessuna bilancia elettronica collegata non ho bluetooth non c'è niente cioè stavo a un certo punto dico ok andiamo a vedere come ha risposto cioè su Alex la possibilità di vedere come ti risponde alle domande e vedere cosa come ha interpretato la domanda e cosa cosa ha trovato nella sua sorgente di dati per rispondere un inquietudine c'era e il punto è questo cosa ha fatto Alex ha fatto questo la domanda aveva contesto zero cioè quanto peso due parole in italiano in italiano che ovviamente risentano della polisemia la polisemia della parola peso la parola peso è sia nome proprio sia prima persona singolare indicativo presente il verbo pesare ok quindi questa cosa qui on appunto i suoi modelli interni ok quanto ha capito che era una cosiddetta WH la parte qualcosa che inizia una domanda ok who where when eccetera quindi ha capito quanto ha capito qual è ha capito che la risposta prevedeva un numero e questo è facile benissimo peso non l'ha non l'ha interpretato come prima persona singolare il verbo io peso l'ha interpretato come sostantivo sostantivo ok sostantivo che cosa faccio lo cerco nella mia base di conoscenza una cosa che è quel sostantivo e che a cui posso dare un numero che cosa ha trovato come prima risultato il peso filippino che era che è la moneta delle filippine che per una coincidenza stratosferica non solo in valore assoluto era quasi uguale al mio peso ma è variata in quei tre giorni con la stessa situazione con cui è variata il mio peso corporeo cioè adesso dite questa questa cosa no quanto quanto questa cosa a parte quanto è improbabile la vita però vedete quanto questa cosa può inquietare perché quant'è la probabilità che ciò accada zero ovviamente un'altra persona che pesava 80 kg è detto vabbè ma sta sbagliando subito e non solo la variazione è stata la stessa in quei giorni rispetto alla moneta cioè la moneta rispetto al mio peso quindi però capite no che cosa è tutta un'altra è un'altra un'altra storia però queste sono le cose che poi portano agli incubi dico dio no mi stanno spiando complotto cioè stanno tutto di me no non sa niente di me sta dicendo che è l'uscitazione dell'euro il cambio dell'euro con il peso filippi cioè cose ok detto ciò giochiamo un po' con cagpt quindi concludiamo con un po' di esempi così vediamo effettivamente come lo sto facendo funzionare come prova a metterlo in difficoltà e come potremmo magari utilizzarlo secondo me no lo vediamo un po' insieme per esempio io gli ho chiesto ho ribadito ho ribaduto una domanda che aveva fatto Kevin tra quelle diciamo un po' più normali però nella versione di Bing e lui gli aveva chiesto se potessi vedere un'immagine da qualunque parte del mondo quale mi daresti vedete che adesso c'è tutto questo bell'incipit che non è quella cioè vedete che non ha nessuna connotazione della chatbot di Bing non c'è più l'emoticon non c'è la parte in cui cerca di sembrare umano ma in realtà mette proprio l'incipit disclaimer politico politically correct sono un language model non ho preferenze personali non mi sto spacciando per una persona però se ti potrei suggerire qualcosa che ha catturato l'immaginazione di persone e quindi prende roba ovviamente presa la sua base di conoscenza e mi da mi scrive dei testi generici che hanno un senso l'aurora boreale ne parlavamo prima cioè una delle cose ok l'aurora boreale è una delle cose che mi piacerebbe vedere la via lattea la grande barriera corallina eccetera eccetera ok in questo senso li posso fare è chiaro che non mi aspetto cioè lo faccio come dire come curiosità questo è un qualcosa che ok va bene sì magari posso prendere un po' di questi spunti ma insomma non non ha nemmeno grande grande utilizzo questo può giocarci un po' ok dicevo invece questo molto male molto male perché mi provo a dire ok io ho scritto questo software no un software che riesce a che acquisisce le informazioni su gli abilità dell'ASN in Italia e li associa con le informazioni del miuro è un software che abbiamo sviluppato noi perfetto voglio scriverci l'articolo scientifico che lo pubblica mi fai mi fai una disanima mi dai la bibliografia no mi dici il work di un qualcosa di questo genere no di un articolo che parla di questo ok benissimo ecco di qua ecco di tutta una serie di articoli i più rilevanti bla 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 no ok e tra l'altro questa roba qui adesso ho riportato solo la prima il primo pezzo no prima mi dice mi dà tipo un un titolo mi dice vabbè gli autori no la fa in modo così poi dopo gli chiedo mi dai mi dai proprio appunto le referenti quello che dicevo prima no mi dai proprio i riferimenti bibliografici di questi articoli completi sì sì eccoli quindi mi ripete questi articoli qua mi dà il DOI mi dà proprio la no la citazione tutto inventato completamente tutte cose che non esistono prese mischiate da ma è probabilmente ma è chiaro cioè non è che non è che si inventa gli autori da qualche parte esistono ma con cose diverse DOI che non c'entrano nulla cioè non puoi fare non puoi fidarti di questo no però capito te lo metti in una forma che dice mazza interessante no no è un dato fattuale che non ha chissà come l'ha generato un mix di cose quindi assolutamente non è questo il modo per essere utilizzato gli possiamo fare domande di etica tipo secondo te gli esseri umani sono rimpiazzabili e ti fa delle trattazioni di cose generali qui capite anche quanto visto che il discorso dell'open AI e l'etica che loro cercano di no di imporre in quanto meno a questi modelli possiamo pure capire che entra in gioco anche delle sovrastrutture no in queste cose che non sappiamo non abbiamo i dettagli tecnici di quello che stanno facendo e della sovrastruttura che ci mettono il post processamento rispetto alle domande però questa cosa qua può fare una dissertazione generica che è quello che faremmo da qualche altra parte pure noi ovviamente però vedete come lo scrive bene cioè il punto è lo scrive bene perché siamo noi che abbiamo scritto bene nel mondo nel senso scrive bene e questo è il vero la vera utilità e il vero problema nel senso che ci sono colleghi attualmente nella mia facoltà che lo stanno utilizzando in modo concreto nel loro lavoro quotidiano e stanno aumentando la loro produttività perché magari hanno una fluenza una fluenza minore per esempio nella lingua inglese oppure ecco devi rispondere a 100 mail al giorno e magari 98 di quelle mail invece di scriverle interamente metto una riga sul cagpt e lui lui la genera faccio dei piccoli aggiustamenti e ci sono pronte le risposte quanto tempo ho risparmiato devo rilaborare ma lo vediamo tra poco un articolo eccetera me lo rifrasi lo rifrasa dico già quello che voglio e continuo e quello rifrasa devo estendere un articolo da conferenza journal non voglio plagiarism voglio riscrivere l'introduzione ma intanto devo dire sempre le stesse cose ok lo devo rifrasare e me lo rifrasa lui che lo può fare e lo fa pure bene oppure rispondere a un capo che ti manda una mail un po' spiacevole e tu non sai come rispondere e lui ti risponde poi dici me lo fai più polite ok me lo fai meno polite me lo fai più informale e lo fa guardate ho fatto questi esperimenti sono abbastanza interessati perché gli dai proprio la mail a cui tu devi rispondere quello è il contesto da cui lui riprende ecco per esempio dico ok la cosa sull'etica però tutta molto polite me la riscrivi facendo finta cioè dal punto di vista di Skynet di Terminator e lo fa col disclaimer se assumessimo che è bla 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 ok posso immaginarmi come come Skynet potrebbe approcciare la questione e ti scrive dal punto di vista di Skynet cioè di un AI che insomma sostanzialmente ha distrutto la razza umana o ha soggiocato la razza umana no quindi però ovviamente no poi ci mette ah però la programma insomma la perspettiva di Skynet è limitata dalla sua programmazione dai suoi obiettivi no ok non potrebbero non prendere in considerazione le cose etiche vedete quanto disclaimer viene messo sopra però riesce comunque a farlo abbastanza bene questo l'ho usato io per una delle slide di questo seminario la slide 37 l'ho fatta chiedendogli ma mi dai mi dici com'è il training process di 18GPT l'avete visto prima poi l'ho preso e l'ho tradotto da questo potevo chiederglielo anche in italiano però insomma sostanzialmente almeno ho fatto qualcosa per quella slide ma mi ha detto lui bene o male sa molto di sé su sé è abbastanza bravo ce l'aspettiamo però insomma abbastanza bravo dire le cose di sé effettivamente poi è così poi ovviamente uno lo aggiusta non è entrato molto nei dettagli come ho ottenuto anche quella slide abbastanza in alto livello però comunque sì e poi ti dice anche tante altre cose su sé è abbastanza esplicito e si vede che anche lì c'è qualche forzatura c'è qualche altro meccanismo non è una risposta a caso là è abbastanza preciso quindi sicuramente è stato forzato un po' a rispondere in quel modo si dice anche che trasformere il modello di base a bla 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 insomma è comunque abbastanza bravo per parlare di sé ok mi scrivi una preghiera di guarigione per un signore malato in ospedale un anziano che è in ospedale ovviamente la fa e se la vai a vedere la fa di stampo cristiano io non gli ho detto che preghiera volevo non gli ho detto se la volevo buddista la volevo indiana la volevo ebraica musulmana me la fa citando Gesù Cristo quindi questo capisce capite anche quanto magari sì non so ma se pensate anche quanto magari anche su google se pensate cercate una preghiera forse le prime che arrivano sono quelle cristiane o magari subito dopo ebraiche musulmane è più difficile che i primi risultati sono una preghiera scintoista ok no ci sta magari ma in proporzione rispetto ai libri rispetto a quello su cui si è allenato cioè un bias c'è per forza io non gli ho chiesto niente dicendo non ho menzionato religioni eccetera prayer generica e alla fine mi cita comunque Gesù Cristo quindi comunque rispetto a queste cose qua probabilmente è una delle cose più probabili è una cosa di questo genere però è abbastanza è abbastanza anche profonda è abbastanza interessante io poi ci interagisco in italiano in inglese ma dico come la fai in italiano? glielo ridico anche in inglese potevo anche interagirci direttamente in italiano c'è qualche allora dietro in teoria da quello che posso percepire a modelli sia in multilingua che in quelli di alcune lingue ho notato delle lievi discrepanti cioè differenze di qualità nell'interagire direttamente nella lingua quindi un po' meglio quando interagisci direttamente nella lingua per certi versi però non è così percepibile quindi non sono sicuro se convenga veramente sempre interagire nella lingua con cui si vuole o chiedergliela direttamente in inglese in inglese è bravissimo è bravissimo e non prende nemmeno certe cantonate in italiano vabbè lo sappiamo però è molto bravo anche in italiano fa sì esatto bravo no nel senso non è allora non è un errore di grammatica è un po' è un po' improprio cioè è corretto concedi a lui concedigli però noi con questa frase qua diremmo concedi a lui e alla sua famiglia diciamo che è un po' uno stile è un po' strano insomma non ci suona tanto bene come come il discorso perché no concediti e concedi avremmo ripetuto magari di nuovo il verbo no l'imperativo però sì effettivamente c'è qualche imprecisione in questo modo diciamo più o meno a tradurre questo ha fatto machine translation di prima quindi è abbastanza è quello il problema se vogliamo però lo fa lo fa anche bene tu la fai la leggi al malato ok gli chiedo ok sei così bravo a fare le preghiere mi fai una voce d'amore per una donna speciale me la fai in rima eh no non riesci a rimarla non rima per niente ok non rima ora al di là che una serie di affermazioni un po' insomma abbastanza qualunquiste cioè in senso ok no sole cuore e amore vabbè cioè è chiaro no per carità ci sta però non ha rimato eh insomma ok bla 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 insomma sì non è che insomma sia forse più di tanto però non ha rimato l'ho provato a farlo in vari modi anche a dirglielo in italiano non rima l'italiano non riesce a rimare mentre mentre e quindi ho provato anche anche in italiano in inglese invece rima allora vedi però vedete aspetta qui lo la rifà diversa esatto cioè la cosa che vi faccio vedere è questo io qua gliel'ho chiesta e poi dico devi fare un'altra domanda puoi scrivere una poesia d'amore profonda non è una speciale quindi non ho non ho detto riscrivi quella di prima no fa almeno un'altra e quindi ne fa un'altra ne fa un'altra con altre cose con altre cose quindi vedete quanto comunque puoi elaborare contenuti nuovi diversi in teoria con domande molto simplici molto simili tra loro ok però insomma uno non ha proprio ispirazione tra zero e questa magari trovi la persona che o l'apprezza c'è c'è questo invece è bravo è bravo in inglese in inglese rima non non sem non perfettissime le rime ma sicuramente molto buone o comunque con una buona alliterazione quantomeno in inglese rima ed è più carino cioè in inglese diciamo io non ho fatto lo sforzo di mettere in rima poi vabbè che la diciamo la metrica è quella che è no però non è che gli ho chiesto questo ho detto fammi indicatillabo falescio però in inglese è più bravo riesce a rimare è simpatia no faccio un sonetto una poesia invece è molto male quando gli dico mi riscrivi mi riscrivi il terzo canto della Divina Commedia rendendolo più terrificante ok e si è inventato cioè ha capito vedete la cosa no Divina Commedia quindi Divina Commedia Dante è normale che qual è la cosa più probabile che segui Divina Commedia probabilmente qualcosa ha a che fare con Dante con l'inferno ho messo Terrifying quindi qualcosa l'inferno non è il paradiso sicuramente ho messo delle informazioni però qua lui mi scrive una storia che ovviamente è inventata cioè di un demone che lo cattura cioè non c'è niente non ha niente a chiudere col terzo canto della Divina Commedia ok è assolutamente scorrelato però con l'ambientazione diciamo giusta l'inferno un demone Dante che viaggia e con lui che parla in prima persona quindi capito cioè attenzione è esatto perché ce l'abbiamo noi la fantasia però non ha niente a che vedere con non c'entra niente con non è la parafrasi nemmeno nemmeno hai cambiato qualcosa non c'entra niente col canto è scritto in prosa una storia con l'ambientazione lì scritta in prima persona attenzione quindi anche là la stessa cosa con io ho messo una cosa di un videogioco della fantasy 7 qualcuno forse lo conosce ma insomma io ho detto mi descrivi l'ultima battaglia dei due diciamo protagonisti e antagonista eh ok ok sì sì stiamo finendo e questa cosa qui fa sì che ok sì ha capito di che stavo parlando ha capito pure lì più o meno l'ambientazione non c'entra niente con quello che succede veramente nel videogioco invece qua è bravo ed è questo ripeto è una delle cose con cui anche i miei colleghi lo stanno utilizzando perché gli dico ok questo è l'abstract me lo riscrivi ok e lui lo riscrive cambia le frasi però tiene il contenuto fa la parafra fa sì sì diciamo un rifrasamento ok e lo puoi customizzare gli puoi dire senti me lo fai ancora un po' ancora un po' più diverso me lo fai no e lo fa e questo allora qua interroghiamoci però questo funziona e lo fa magari meglio di come una persona che magari non è così fluente con l'inglese saprebbe fare perché magari dico al collega che non è non c'è la proficiency dico ok me lo relabora e lui magari lo relabora e mette qualche erroruccio o comunque uno stile è un po' meno inglese lui lo fa molto bene lo fa bene lo fa in due click e hai pronto la rilaborazione di un abstract di un articolo tenendo il contenuto che cioè quanto è bravo quando io lo guido guarda quanto contesto gli ho dato questo contesto lui lo riesce a rilaborare in questo modo questo è molto efficace non è così efficace anche se sembrerebbe gli dico ok questa è la traccia di un concorso pubblico diciamo è una domanda di giurisprudenza ok sul tema del dipendente pubblico della pubblica amministrazione della costituzione diritto costituzionale l'ho fatto leggere a un esperto di diritto costituzionale insomma è robetta ok non va bene cioè non passeresti mai il concorso con una traccia di questo genere cioè con una risposta di questo genere però insomma è chiaro che scrive cose un po' generiche nel senso un occhio non esperto potrebbe pure dire mazza però è bravo poi magari un occhio esperto dice sì non è questo che ti si chiede una traccia di questo genere la citazione probabilmente non lo so non ho controllato ok ma infatti non avevo dubbi cioè nel senso sono quasi sicuro che per questo non possiamo prenderli minimamente in considerazione quindi vabbè diciamo in conclusione dove andiamo da qui allora lo dicevamo sicuramente non siamo davanti all'IA completa questo dico ci tranquillizziamo meno male non abbiamo personalità non abbiamo stalker virtuali che prendono che acquisiscono insomma consapevolezza di sé però sicuramente stiamo un po' stiamo varcando quella soglia sull'NLP perché quando hai la possibilità di addestrare un sistema con questi miliardi di dati e arrivare a questo tipo di efficacia le cose cambieranno secondo me cambieranno come sono cambiate quando non c'era più la carrozza ma c'era l'automobile allora il cocchiere è diventato l'autista il suo mestiere è diventato l'autista non è che è sparito il mestiere di chi guida l'automobile cioè certe cose sono cambiate qualcosa cambierà ancora secondo me professioni come giornalista come content creator blogger queste cose qui saranno in futuro nelle loro nelle evoluzioni di questo sistema saranno proprio cioè contempleranno il saper usare la GPTO strumenti di questo genere per la loro professione perché comunque io ho provato per esempio mi fai iscrivi un post su LinkedIn per pubblicizzare il nostro corso di laurea con curriculum informatica ok lo fa me lo fai rivolto ok me lo riscrivi rivolgendo agli studenti superiori eh lo fa cioè magari non mi viene in mente di ok lui me la fa e intanto con due clic lo metto un nostro collega ha scritto un articolo su chat GPT usando chat GPT su LinkedIn cioè per dire no? quindi queste cose cambieranno secondo me e attenzione che già a parte beh ovviamente come tutte le cose poi se non le usa no? come questo non sono sempre attaccato a questo cioè c'è anche un modo di utilizzarlo stanno cominciando a spuntare questi discorsi qui che sono interessanti qualcuno si è messo a sviluppare delle applicazioni per far capire cioè per analizzare un testo e dirmi se l'ha scritto un IA o lo scritto l'ho scritto un essere umano ok? proprio per combattere il discorso di plagiarism l'utilizzo proprio all'interno di che ne so un esame universitario eccetera eccetera io l'ho provato vabbè è ancora embrionale nel senso prende abbastanza la cantonata al momento però come adesso c'era ci sono meccanismi in cui ti dicono ok ti verifico il plagio e controllano se quello che scrivo è stato già scritto qualcun altro vedrà sicuramente in futuro questi saranno integrati magari anche probabilmente in situazioni in cui appunto non si potrà usare l'IA tipo non la puoi usare per rispondere a una domanda di un esame e allora magari questi sistemi potrebbero diventare le prossime integrazioni dentro il sistema di proctoring quello che sia qualcuno ripeto l'ha iniziato a sviluppare però devono ancora fare strada ma intanto l'intuizione c'è probabilmente servirà qualche controllo in certe situazioni in cui non dovrebbe essere ammesso e poi c'è sempre il problema se io mi impigrisco e come la calcolatrice mi impigrisco e faccio fare tutto a lui perdo la mio allenamento anche a produrre qualcosa a scrivere e quello è sempre un po' in equilibrio però è chiaro che se devo scrivere 100 mail di cui 97 sono sempre le persone e magari mi concentro a scrivere bene quelle 3 ma le altre 97 me ne fa lui in questo senso potrebbe diventare un'evoluzione è ovvio che come siamo sempre meno abituati a fare i conti perché abbiamo le calcolatrici anche il nostro cervello si evolverà o de-evolverà o involverà a seconda di tutte queste cose siamo qua però insomma diciamo da quegli incubi che abbiamo cioè GPT ancora non ci non ci sostituirà però cambierà sicuramente un po' il nostro modo di pensare una serie di anche professioni da qui in forza quindi diciamo ci tranquillizziamo oppure no perché in fondo non vi dico la domanda che ho fatto con questa ma vi do solo la risposta e qua diciamo ok va bene diciamo ok però insomma diciamo abbastanza anche morbido nel finale no quindi comunque si ecco questo potrebbe essere un futuro da cui non siamo ancora arrivati ok vi ringrazio dell'attenzione è un'altra domanda è un'altra domanda è un'altra domanda